A Crevola d'Ossola torna il presepe vivente. Sarà in scena la Notte Santa a partire dalle 21. Il centro storico del paese ossolano si animerà con gli antichi mestieri. È una tradizione che si rinnova e che solo il Covid era riuscito lo scorso anno a rimodulare a causa del divieto di assembramento. L'appuntamento per il 2022 e per le 21 del 24 dicembre tra le vie strette del vecchio borgo di Crevola d'Ossola. A mezzanotte invece sarà la vicina chiesa dei Santi Pietro e Paolo ad accogliere i fedeli per la Santa Messa e poi alla fine il brindisi benaugurale. E questo è solo uno degli eventi in calendario a Crevola d'Ossola. Il primo è già in programma sabato prossimo nella chiesa parrocchiale con il concerto del coro Treponti promosso dall'associazione Mati Bellula. Giovedì giorno dell'Immacolata il parco di Villa Renzi ospita invece la diciannovesima edizione della fiera di Santa Claus. Protagoniste le bancarelle delle scuole del paese e ci sarà anche l'esposizione dei modelli Lego. Alle 11 sono in agenda la camminata non competitiva e il minigiro dei Babbi Natale promosso da Avis ed associazione sportiva caddese. Domenica 11 dicembre la festa si sposta nella piccola frazione di Oira per gli auguri in musica a cura della corale parrocchiale e musica Oira. Il 23 dicembre a cura del gruppo Amici del Presepe della Parrocchia di scena il concerto Note di Natale. A chiudere gli eventi sarà l'arrivo della Befana che porterà anche i remaggi sul sagrato della chiesa parrocchiale il 6 di gennaio. Grazie. 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 Grazie.